Buongiorno a tutti, questa è un'altra delle mie riflessioni ad alta voce per continuare il discorso iniziato durante il seminario del 18 gennaio sull'identità. Parlando dei tre fattori dell'evoluzione, quindi la percezione, l'irriversibilità e la separazione, oggi voglio parlare della nostra vita. La nostra vita è duale. Che cosa vuol dire che è duale? Che contemporaneamente esistono dei momenti alti, momenti positivi o dei momenti bassi e dei momenti negativi, perché la nostra vita è pulsazione, è tutto pulsa, la nostra energia è pulsante. Se immaginiamo la respirazione a una fase di contrazione, a una fase di espansione, se pensiamo all'universo che respira attraverso la luce e attraverso il buio, se pensiamo a quello che è la contrapposizione tra destra e sinistra, alto e basso, bello e brutto, buono e cattivo, tutto quello che noi viviamo è sempre in dualità. Cioè quindi sempre due estremi contrapposti, però sono contrapposti ma allo stesso tempo sono la stessa cosa, quindi non c'è nessun tipo di separazione, perché la luce e il buio esistono contemporaneamente, solo che noi ovviamente possiamo vedere la luce o il buio. La nostra vita stessa è fatta di, come ho detto prima, di contrazioni di espansione, le nostre cellule si contraggono e si espandono, ma c'è sempre un momento di equilibrio, quindi l'universo ha anche un suo equilibrio che è dato dall'alternanza tra fasi positive e fasi negative. Ovviamente positivo e negativo utilizzato non nel termine positivo bello e negativo brutto, perché entrambi devono esistere per creare la vita e creare l'equilibrio, quindi questa alternanza crea sempre l'equilibrio. E questo perché cosa, perché ho iniziato questo discorso? Perché a volte nelle situazioni noi tendiamo a vedere o solo i problemi, quindi diciamo le fasi non utili per le cose non utili, le situazioni non utili per il nostro benessere, per raggiungere la felicità e la libertà interiore e non vediamo magari le opportunità che sono invece utili per raggiungere proprio la felicità e la libertà interiore. Contemporaneamente in ogni situazione, per la legge della dualità, per la legge comunque della pulsazione e della vita, in ogni situazione ci sono problemi e ci sono anche soluzioni e opportunità. Quindi è importante non vedere le situazioni come irreversibili, cercare di trovare le opportunità, ovviamente a volte non è semplice metterle in atto, però se portiamo veramente attenzione alle situazioni riusciamo a trovare le opportunità oppure riusciamo a trovare quello che la situazione stessa ci sta insegnando e ci vuole insegnare, quindi è importante trasformare quella situazione per poi raggiungere la fase positiva, la fase bella. e tornando anche a questo discorso, legando i problemi alla mancanza, perché ovviamente quando abbiamo dei problemi se noi guardiamo a quello che ci manca, guardiamo le cose negative, siamo solo in una fase down, ma contemporaneamente esiste anche la fase positiva dove ci sono le opportunità e dove c'è l'abbondanza. Quindi la separazione vuol dire, quindi legando insieme separazione ed irreversibilità, scusate il gioco mi sono un po' incagliato, è importante capire che non sono situazioni separate, quindi non esistono solo problemi e non esistono solo opportunità. Nella vita ci possono essere problemi e ci possono essere opportunità, quindi cerchiamo di percepire da ogni situazione che cosa possiamo fare, ovviamente per stare bene, pensiamo che non siano situazioni irreversibili e non pensiamo che siano completamente separate. Come noi non siamo separati da noi stessi, ovviamente possiamo percepire la separazione da noi stessi, come noi non siamo separati dal resto del mondo, ma possiamo percepire la separazione dal resto del mondo, è importante ricordare, quindi portiamo sempre il discorso al ricordo, che tutto pulsa, tutto è duale e tutto esiste contemporaneamente. Detto questo vi auguro uno splendido weekend e mi auguro di vedervi al più presto. Grazie a tutti, ciao e buona giornata!